Il Rimini a 12 Sesto angolo di Palma, Montanari colpisce di testa, De Vito rovesce in mezzo, la battuta di Arlotti è deviata da Pergreffi, destro al volo di Palma e sfera alta di un soffio All'ottavo Montanari è larga per Nava, pallone a Palma che sfodera un gran destro, alzato oltre alla traversa da Del Favero Al ventunesimo schema su calcio d'angolo per il Piacenza, Corradi per Paponi, sinistro che si bila lato Al venticinquesimo Corradi dalla bandirina, per Greffi prolunga per Paponi che è liberissimo, scaraventa in rete da due passi 1-0 Piacenza e dodicesimo centro stagionale per l'attaccante Ex Rimini che si conferma capo cannoniere del torneo Al quarantatresimo Della Latta frena e fa filtrare per Corradi, il cui cross da dentro l'area, deviato da De Vito, si stampa sul palo Papponi non è lesto al tapin Al sesto della ripresa Montanari è larga destra per Nava, il cui cross è intercettato con un braccio da Corradi Il signor Pirrotta di Barcellona a posto di Gotto lascia proseguire Al ventottesimo Della Latta fa sportellate con Scappi e va al cross, Paponi calcia il volo di destro e sfera oltre alla traversa Al trentaquattresimo Corradi si libera della guardia di Cigliano, salta Scappi e di destro infila l'angolo basso alla sinistra di Sala 2-0 e secondo centro stagionale per il numero 10 del Piacenza Al trentanovesimo Palma mette in area, Gerardi tocca di testa, poi si ritrova il pallone tra i piedi Allarga per Mancini che gli restituisce la sfera, la sua girata di destro è alta Al minuto 43 Silla va via sinistra, entra in area e calcia d'esterno destro, pallone alto Al quarantottesimo Zappella parte da destra, si sposta al centro e serve Della Latta che prende la mira e trova l'incrocio dei pali per il 3-0 Il numero 18 di Mr. Franzini si conferma specialista nei gol in pieno recupero E' una punizione troppo severa per il Rimini, al quinto capo di fila I romagnoli ora sono ultimi in classifica Abbiamo visto anche i riflessi filmati, insomma pesante il passivo forse anche più di quanto avrebbe meritato la formazione bianco-rossa però insomma sempre sconfitta è la quinta di fila inizia ad essere una situazione pesante anche perché il Rimini è diventato da questo fine settimana fanalino di coda Allora andiamo subito a scoprire i nostri ospiti per capire con chi parleremo di tutto ciò con il nostro Cesare Trevisani, buonasera Cesare Buonasera a tutti Con il nostro Baio, buonasera Baio Ciao a tutti, buonasera Per il Rimini abbiamo il fortunato Scott Arlotti, buonasera Buonasera a tutti E Luca Filippi Buonasera Che ormai è nostro acquisito ed è giornista del Corriere Romagna ma insomma lo invito sempre molto volentieri perché insomma mi fa molto piacere averti qui in studio Parto da te proprio Scott che l'hai vissuta dal campo Insomma a me nel complesso a tratti Rimini non era dispiaciuto e alla fine però è venuto fuori questo 0-3 che è un passivo molto pesante Hai detto bene a tratti perché comunque abbiamo fatto un ottimo inizio come dicevamo prima abbiamo fatto un ottimo inizio poi abbiamo commesso un errore che in questo momento non possiamo permetterci di commettere perché come lo commettiamo ci puniscono perché giustamente Paponi ha fatto gol da due metri ma comunque se lo lasci libero in area è uno che la porta la vede quindi per il resto sì Quest'anno poi la vede in maniera clamorosa Anche l'anno scorso sono due anni che sta facendo due ottimi campionati però come dicevi a tratti abbiamo fatto sì dei buoni spezzoni anche inizio secondo tempo siamo partiti bene poi commettiamo questi errori che non ci possiamo permettere e prendiamo gol Cesare è troppo poco per poter sperare di uscire con qualcosa dal Garilli? Sì troppo poco perché è una squadra che ha una fragilità di base molto grande quindi quando gli avversari spingono e ti mettono un po' in difficoltà basta troppo poco per cadere in un errore che ti condanna quindi questo è un difetto gravissimo perché le partite sono fatte di 95 minuti sono fatte di equilibri, sono fatte di momenti in cui si prevale in altri si subisce però quando subisci e gli altri spingono un po' se tu commetti regolarmente qualche grave errore poi viene anche punito è vero che nell'economia della partita Irimini forse non meritava questo passivo così vistoso però le partite sono fatte di episodi, sono fatte di momenti nei quali se tu stai attento il gol non lo prendi perché se stai più attento almeno due di quei gol lì non li prendi e invece se non stai attento gli altri gol te lo fanno Irimini ha avuto qualcosa all'inizio come occasione ha battuto tanti angoli e non ha riuscito a venire fuori con qualcosa di concreto Flaiano dice la situazione è grave ma non è seria Baio, devo dire che è da un po' che non ti vedo così intristito per Irimini forse non ti avevo mai visto in passato così intristito per Irimini è un momento chiaramente no anche perché insomma 5k di fila sono tanti, insomma inizia ad essere tanti, importanti e anche i progressi si vedono ma appunto come dicevamo prima a tratti e poi si ricade sempre nei suoi terrori che sono sempre le solite distrazioni e Irimini in questo caso ce ne ha messe ben tre perché se andiamo a vedere su tutti e tre i gol insomma qualche errore e anche più di uno c'è Roberto io comincerei dal discorso dei progressi i progressi si vedono perché chiaramente uno si sforza di trovare qualche cosa di positivo onestamente quindi devi proprio andare a cercare dici sì sinceramente in questo momento sì perché però il primo quarto d'ora cioè a me è piaciuto molto ma il calcio ragazzi dopo sono 90 minuti è chiaro il calcio è probabilmente il più tiranno degli sport perché cioè giocare bene un quarto d'ora non dice niente assolutamente niente se poi prima è stato generoso Scott a dire due metri dalla porta Pacconi è dentro la porta è due centimetri dalla porta questi sono degli errori che io sinceramente non riesco a concepire per una squadra che deve avere la tigna deve mordere l'avversario perché si deve salvare perché deve andare su dei campi che la vedono in partenza certamente penalizzata dalla superiorità tecnica degli avversari deve andare a dimostrare di avere quel qualcosa di più che permette poi di fare delle prestazioni Roberto che i nostri avversari diretti della corsa alla salvezza bene o male hanno fatto tutti una o due volte in questo campionato e questa è la cosa sconfortante onestamente oggi il Rimini è meritatamente ultimo questa è la cosa che mi rattrista proprio quindi dici ultimo e in maniera meritate sottolinei il meritatamente Luca tu che partita e soprattutto che Rimini hai visto al Garilli? ho visto un Rimini come hai detto anche tu prima nei primi 20 minuti molto bene è un Rimini comunque coraggioso, pimpante che poteva assolutamente sbloccare la partita e poi la disattenzione solita è indirizzata verso altri binari poi la squadra ha provato a reagire anche all'inizio del secondo tempo e poi secondo me è diventato veramente impossibile la rimonta dopo il 2-0 anche il Piacenza ha cambiato modulo è passato al 3-5-2 ha coperto meglio il campo ha amministrato bene ha sofferto comunque poco ha sofferto poco e Rimini ha dimostrato insomma ancora una volta in questi secondi tempi è vero che già nel primo tempo stava 1-0 però in questi secondi tempi ha dimostrato a un certo punto della partita completamente di staccare la spina è successo diverse volte in stagione e Rimini ha perso già parecchi punti 9 ne ho contati nei secondi tempi e purtroppo come diceva anche prima Baio le partite non durano 20 minuti è una cosa per la quale poi mi batto spesso anche parlando le partite vanno giocate per 95 minuti e purtroppo bisogna fare un salto di qualità da questo punto di vista e indubbiamente qualcosa insomma da migliorare ci sarà andiamo da un amico della nostra trasmissione Bike Service Bike Service non è solo per due ma anche per quattro ruote assistenza auto, moto e scooter multimarca centro revisione, sostituzione pneumatici di qualità prezzi vantaggiosi aperto anche il sabato, mattina e pomeriggio e da Bike Service trovi anche vendita di moto e scooter multimarca Bike Service è in via Emilia 183 vicino alla nuova fiera di Rimini telefono 0541 74 35 58 i primi messaggi da casa seguo i Rimini da tanti anni e non mi ricordo di averlo mai visto ultimo in classifica che tristezza e che dire di ieri del 1 al 0 quando la partita era ancora recuperabile con un piacenza non trascendentale fuori montanare il silvestro per Leonetti e Mancini ma veramente non capisco cosa ci si sarebbe aspettati nel disastro unica consolazione che le altre non corrono e sono a pochi punti di distanza ma domenica conta solo vincere Marco scrive eh sì anche se con la tristina non sarà un impegno facile leggiamo anche questo non ho mai visto una squadra che dopo il cambio allenatore in tre giornate non ha fatto un punto e ci scrive Danny Cesare in effetti la svolta alla fine insomma possiamo parlare del gioco miglioramente però la svolta supera risultati non si può dire che ci sia stata no no io credo che purtroppo per come è stata strutturata questa squadra cioè l'allenatore sinceramente può fare molto poco tra l'altro in questo momento ci sono anche dei problemi di organico con qualche giocatore tipo Cani dove Arrasbe che comunque sono giocatori che hanno dato qualcosa nel momento che Grimini andava un pochino meglio quindi secondo me non c'è neanche la possibilità di cambiare un assetto perché anche ieri voglio dire con Ferrani oltretutto in aggiunta fuori Gerardi mi sembra che sia un po' malato insomma non è difficile anche se poi è stato è stato più pericoloso insomma alla fine nei minuti diciamo finale ha avuto un paio di occasioni sì però voglio dire questo è l'attaccante su cui diciamo più di ogni altro si faceva di conto e da diverse partite a questa parte non riesce a dare il contributo che da lui ci si aspetta quindi secondo me non ci sono in questo momento finché non rientrano i giocatori o finché la squadra non si spalma un po' sulle convinzioni di Colella non ci sono tanti margini per fare dei cambiamenti ci vorrebbe un pizzico di fortuna ci vorrebbe molta più attenzione e ci vorrebbe anche che quando ci sono delle occasioni in cui gli arbitri ti devono dare qualcosa te lo diano perché obiettivamente anche ieri Rini ha pagato per me pesantemente perché in una fase della partita un calcio di rigore come quello poteva anche aggiustarla un pochino insomma visto che me la cite allora andiamo proprio alla moviola l'arbitro ricordiamo è Pirrotta di Barcellona a posto di Gotto abbiamo selezionato in realtà due episodi che sono stati tutti e due insomma importanti il primo è proprio il gol di Paponi il gol dell'1-0 possiamo andare a vedere appunto il calcio d'angolo di Corradi con Pergreffi che tocca di spalla secondo me e Paponi che da due passi segna qui tra l'altro vediamo anche un po' l'ingenuità di Scappi che aveva in marcatura Paponi e che rimane guardate tra praticamente Paponi riesce a mettere tra lui e il suo marcatore Sala e quindi lui lo lascia e alla fine qui si spiega per quale motivo il giocatore appunto di casa si trovasse da solo perché praticamente ma gli Scappi di nome di fatto ma dove sta andando? guardate lì lo tiene e lì poi e lì poi lo molla e c'è sale in mezzo e lui chiaramente lì non lo può più prendere ma non lo stava neanche guardando non lo sta neanche marcando con lo sguardo ed era il suo uomo quindi questo secondo me non voglio dare diciamo le colpe tutte a un giocatore perché si perde in undici più la panchina però qui diciamo che questo gol Scappi ce l'ha parecchio secondo me sulla coscienza perché qui proprio l'ha proprio mollato insomma all'uomo però nella moviola la cosa che volevo sottolineare era il tocco se praticamente anche secondo voi ci può essere un tocco diciamo non legale tra virgolette quando lo allontana no no andiamo a vedere andiamo a vedere rivediamo rivediamo l'azione guardate questo tocco qua spalla dai con la spalla guardate ecco qua questo tocco noi siamo un pochino più braccio che spalla per quello per quello insomma adesso l'errore c'è l'ingenuità c'è rimane tutto però se proprio per quel discorso che Cesare facevi due secondi fa insomma qui secondo me l'assist è fatto quasi di mezzo braccio se ho visto bene insomma poi non lo so cosa mi dite voi? da qui sembra io in diretta non sinceramente non avevo non ci avevo fatto caso perché prima l'ha toccato Montanari l'ha proprio spistato Montanari un pochino con la testa quindi io ho perso un po' la traiettoria perché ero alla ricerca della palla come secondo uomo ma non ci ho fatto caso però da qui sembra sembra braccio però non cosa dite? a me sembra spalla ma cioè alla fine vabbè ti dici però se fosse fallo insomma conterebbe insomma perché alla fine sarebbe stato ad annullare insomma il gol a vedere da qua sembra braccio a vedere da qua però siamo un po' lontanucci sì siamo lontani difatti il dubbio anche sul tocco sulla parte così rimane però la sensazione l'ho voluta mettere in moviole perché la mia sensazione nel rivederlo è comunque che ci fosse stato un tocco quasi ma tra la spalla e il braccio insomma però rimane il grave errore difensivo del Rimini insomma che il giocatore il bomber del campionato lì non può rimanere solo senza marcatura a mezzo centimetro dalla porta insomma cosa è sicuro andiamo a vedere poi il secondo episodio direi quasi sconcertante siamo al sesto della ripresa qui ricordiamo che il punteggio è di 1 a 0 per il Piacenza quindi qua la partita si può rimettere in piedi e tutto può far cambiare tutto Rimini tra l'altro l'ha partito bene nella ripresa qui c'è questo cross di Nava qui c'è pallone intercettato nettamente con un braccio da Corradi secondo me questo rigore tutta la vita poi non so volevo sentire anche la vostra opinione però questo secondo me è un rigore non dato è un rigore che secondo me nell'economia dei 90 minuti è determinante perché se realizzato avrebbe comunque fatto giocare un'altra partita a tutte e due le squadre cosa mi dite? è molto evidente ed è molto difficile non vederlo anche da parte del Guardadine è sconcertante ma mi rassicura nella mia opinione sul generale Pigliardi sono tutte conferme che già ben conosciamo sono tutte conferme qui Scott? ma io in diretta avevo visto subito sinceramente che il braccio era abbastanza largo la presa la presa di mano poi l'abbiamo chiamato cioè non l'ho chiamato solo io da come si vede ma l'abbiamo chiamato bene o male guardate le bracciartate tutti quelli che erano intorno alla palla sei giocatori mi sembra adesso li possiamo anche contare sono sei giocatori io l'ho visto che ero dietro un uomo dietro due uomini l'ho visto palese quindi non non avevi dubbi ma secondo te per quale motivo non l'ha fischiata? cioè può essere che non l'abbia visto? mi sembrava anche in ottima posizione l'arbitro era proprio al limite dell'area quindi lo vedeva da dietro non ti saprei dire ha fatto giocare l'azione allora questo è pesante però Baio diciamo che soprattutto se avessimo il famoso fermo immagine con la doppia immagine con il rigore di Fanno proprio con Nava protagonista in quel caso a toccare la palla a mezzo metro di distanza dal suo avversario rigore e munizione direi molto meno quello rigore di questo esatto cioè l'unica cosa che può venire in mente è che l'arbitro l'abbia considerata involontaria ma è a 4 metri però questo è un danno procurato questo è impossibile non so se l'abbia fatta apposta però sicuramente l'ha controllata l'ha controllata insomma col braccio e ammunizione questo Luca tra l'altro è un episodio che avrebbe potuto cambiare alla partita questo abito da dove viene da Barcellona a posto di Bonato chi vede che dalle sue parti non è rigore anche a livello nazionale internazionale si sta discutendo tantissimo perché questo è uno dei punti in cui nemmeno la VAR riesce a a togliere quella disomogeneità di interpretazione che c'è proprio la regola che affida all'arbitro un margine di valutazione sua su colpi di mano che in qualche modo sono comunque involontari perché il concetto della differenza tra volontarietà e involontarietà non è un discrimine nel senso che se è volontario è ovvio che è rigore ma se è involontario dipende se la giocata della palla è sua poi va sul braccio non è che può stare lì 10 minuti no ma la cosa pazzesca è che se colfano è rigore è rigore anche qui per me non sono rigore nessuno dei due per come la vedo io perché comunque un giocatore mediamente tecnicamente pronto a due metri di distanza è capace di calciarti contro un braccio certo e quindi voglio dire se questi qui sono tutti i rigori io alleno i miei giocatori a tirare contro le braccia a due metri da dentro l'aria certo quindi va ripristinato il concetto secondo me di volontarietà di volontarietà perché altrimenti ripeto altrimenti la disparità dell'interpretazione siccome tu affidi agli arbitri vuol dire che finisci in un mare di puntini puntini Luca cioè episodio che avrebbe potuto girare la partita questo se fosse arrivato il rigore sicuramente poi dando per scontato che venisse trasformato perché poi non si sa mai non è certo quello non è certo sì poteva cambiare la partita ma come mi ha detto lo stesso Nava oggi quando l'ho intervistato mi ha detto abbiamo avuto anche tante altre occasioni per segnare secondo me comunque le occasioni ci sono state rispetto ad altre partite le occasioni Rimini le ha avute è chiaro non ha creato 200 palle gol però le occasioni ci sono state e quindi il problema è questo che rispetto ad altre volte comunque la squadra seppur abbia limiti comunque qualcosa in più ha costruito e quindi questo problema di gol cioè iniziasse al preoccupante perché comunque nelle ultime sette partite la squadra ha segnato soltanto due volte e quindi però abbiamo detto dall'inizio dall'inizio della stagione permetto che il reparto offensivo è probabilmente quello che ha bisogno di meno innesti anche a gennaio perché insomma quando hai gli attaccanti del Rimini per lo meno c'è tutta una fase offensiva non è solo una questione legale per quello dico però siccome adesso siamo alle porte quasi del mercato di gennaio se non dovesse partire nessuno sappiamo dell'interessamento per Zamparo piuttosto forte di alcune società anche forti che quindi potrebbero strapparlo eventualmente del Rimini però comunque il reparto offensivo è forse il reparto più completo del Rimini tra i tre reparti sicuramente è il più completo però se noi guardiamo la partita del Piacenza il Piacenza ha fatto quattro tiri in porta cioè quante parate ha fatto Sala nessuna praticamente cioè quindi il Piacenza voglio dire nel senso manca sicuramente la fase di concretizzazione quello sì ma che le occasioni non ci siano state quello io non cioè non sono d'accordo in Piacenza però Sala non ha mai fatto parare secondo me la chiave di lettura è un'altra secondo me la chiave di lettura sta nel fatto che esattamente come succedeva l'anno scorso questa è una cosa in cui il Rimini è ricaduto e se andiamo a vedere e non è la prima volta come giustamente diceva Luca il Rimini è vero che le occasioni le ha avute ma sono state quasi tutte su 0-0 soprattutto le prime due Palma quei due bei tiri in cui il portiere si è superato nel deviarlo secondo me c'è un aspetto da non sottovalutare assolutamente che il Rimini è tornato a a subire molto il fatto di andare sotto il fatto di prendere gol è una squadra che fa una fatica tremenda a riprendersi mentre invece nell'arco di una partita soprattutto quando hai un tempo quando hai un'ora a tua disposizione prendere gol ci sta sei in fondo alla classifica ci sta ma devi continuare a fare il tuo gioco devi continuare a reagire e invece in casa prendi gol su punizione e sparisci dal campo per 5 minuti e ti costa la partita fuori casa che sei ancora più fragile prendi gol e non ti rialzi più cioè è questo secondo me che va analizzato più più del fatto che è vero che creiamo occasioni è vero che l'attacco è forte è la squadra che mentalmente non è più forte come era a inizio del campionato Scott sei d'accordo con questa lettura sì sono d'accordo perché comunque basta guardare la partita con Ravenna come diceva adesso le partite le puoi comunque ribaltare in qualsiasi momento perché ti bastano due tiri tre tiri basta guardare la nostra partita con Ravenna che in quanto due minuti un minuto e mezzo abbiamo preso due gol quindi abbiamo questo calo di concentrazione ogni volta che subiamo che sia il gol del pareggio il gol del vantaggio avversario abbiamo comunque un calo Arsignano c'è tante no ma ce ne sono tante comunque è anche la posizione in classifica che ti mette anche dentro questo tunnel di paura diciamo perché come prendi un gol sei subito con l'acqua alla gola quindi fai fatica a venire fuori fai fatica a reagire ma comunque abbiamo preso il gol al ventesimo anche domenica avevi quasi tutta la partita per pareggiare quindi è sicuramente una cosa dove dobbiamo lavorare perché di tempo ce n'è e le partite le puoi ribaltare veramente in un istante quindi è una cosa anche questa dove dobbiamo migliore dal parecchio come ti trovi in questo ruolo? in questo ruolo mi trovo molto bene anche perché sono un pochino più libero diciamo di andare in pressing sugli avversari perché magari lasciando gestire più palloni a palma dato che tecnicamente riesce a imbucare più verso la punta o comunque verso l'esterno posso diciamo un pochino svariare sicuramente essendo in tre di davanti dovrei essere un pochino più presente in area perché comunque se andiamo a vedere anche la partita di ieri ho fatto mezzo tiro che mi hanno deviato quindi è sicuramente una cosa su cui devo lavorare però mi trovo bene posso dai posso svariare un po' su tutto il fronte ma bisogna essere più presente in area in questo momento perché se non facciamo gol poi è difficile portare anche punti a casa ma scusami ti chiedo una cosa Scott tu anche a me dai l'impressione di essere un po' troppo lontano dalla porta è un dettame tattico che ti dice il mister oppure sei tu che sei portato perché lasci spazi ma sì più che portato magari non è neanche una cosa volontaria perché magari faccio dieci metri in più indietro per recuperare un pallone e non riesco ad arrivare in avanti che sicuramente è un difetto giocando in corona lì perché essendo due trequartisti una punta quando la palla è all'esterno e che la mette dentro sarebbe giusto che tutti e tre bisogna essere dentro all'area perché se no comunque l'esterno a tagliare da di là fa anche abbastanza fatica dato che giochiamo 3-4-2-1 quindi no anche perché ieri secondo me è proprio l'emblema di una difficoltà di presidio dell'area e ieri credo che il Rimini abbia avuto il record di calci d'angolo 12 le battute del campionato più altri traversoni che non sono mancati dalle fasce ma se si toglie la presenza diciamo del pivot che poi spesso e volentieri finisce all'interno dell'area piccola con tre avversari a marcarlo non c'è l'imbucata da dietro cioè c'è un presidio dell'area troppo scarso anche a livello numerico anche numerico sono d'accordo perché su 12 tiri dalla bandierina l'unica occasione è stata quella proprio dove ha tirato prima Scott e poi c'è stata la deviazione e Palma poi ha spedito di un soffio altra la traversa ma c'è una spiegazione molto semplice secondo il mio punto di vista se Rimini recupera i palloni troppo indietro se tu recuperi il pallone 5 metri fuori dalla tua area poi poi guardi i giocatori di Rimini partono tutti come i frombollieri a testa bassa e vanno a sbattere regolarmente contro gli altri se tu recuperi la palla 10 metri oltre la metà campo o 5 metri oltre la metà campo la squadra è in pressione in attacco gli spazi sono più brevi e hai più uomini a ridosso invece noi ci tiriamo indietro recuperiamo palla o facciamo fallo e ne facciamo anche quest'anno tantissimi sulla tre quarti avversaria anche qualcuno in maniera un po' ingenua a quel punto ripartire è molto complicato ma d'altra parte non abbiamo giocatori che tengono il possesso di palla con sicurezza e costringono gli altri ad arretrare e poi se perdi palla sono già lì per recuperarla noi improvvisiamo d'altra parte ieri giocavano centrocampi centrali due interditori sostanzialmente i due esterni di centrocampo su due terzini uno secondo me è più un difensore centrale che un esterno come si ostinano a far giocare Nava a quel punto la qualità per giocare il pallone dopo il metacampo non c'è e quindi si tornano indietro per recuperarla e poi sono 25 metri lontano dall'area quando devono attaccare un dato impressionante Roberto che conforta quello che dice Cesare è il tempo del possesso palla cioè contando un'azione dalla prima volta che si tocca il pallone quando lo si perde o quando si effettua la finalizzazione col tiro magari i rimini di tutte le squadre del campionato e io ne ho viste tantissime di partite è quello che ha un timing di possesso palla più breve perde la palla molto velocemente o se ne sbarazza molto velocemente quindi non riesce ad organizzare possessi proficui quando ci riesce ieri è capitato una volta che ha fatto 5-6 passaggi di fila con un colpo di tacco sono arrivati in aria non hanno tirato perché non mi ricordo chi si è si è si è si quello sarebbe chiaramente la cosa da perseguire ma non solo quella quella è la classica azione della domenica che ti esce in velocità ma basterebbe anche organizzare un po' meglio il proprio possesso nei tempi un vecchio allenatore che avevo io quando ero ragazzo Righini che era il padre di Aldo diceva sempre se la palla ce l'abbiamo noi non ce l'hanno gli altri fa più fatica a far golli questa palla la tiene pochissimo sì però Luca io abbiamo parlato soprattutto della costruzione giustamente della manovra però anche il dato dei 12 tiri dalla bandierina con unico pericolo quel tiro poi arrivato insomma sugli sviluppi contro cross rovesciata in mezzo suo tiro insomma di di palma troppo poco secondo me anche la pericolosità del Rimini che ha battuto 12 calci d'angolo e che mai realmente è riuscito di impensire la porta avversaria su uno dei 12 dei 12 tra l'altro prendendo gol invece sugli sviluppi del quinto corner per i locali sicuramente ieri le palline attive sono state un fattore che non è stato sfruttato a dovere probabilmente anche lo stesso Zampardo dopo la bella prestazione Corravenna l'ha un po' steccata ieri non mi è assolutamente piaciuto mancava Ferrani che è uno dei migliori che è a Rimini su palline attiva sicuramente Ferrani diciamo che ecco in Rimini a parte qualche giocatore non ha dei giganti non me ne voglia Scott non me ne voglia Palma però insomma in un calcio d'angolo anche o difensori da dietro o un Gerardi o un Zampardo con i saltatori di testa insomma dai non non penso che ci siano grandi saltatori o chiaro che non c'è solo il gol di testa però quindi dici che è un problema strutturale insomma se non c'è Ferrani alla fine fondamentalmente non solo Ferrani perché comunque anche lo stesso Scappi ha fatto un gol sul calcio d'angolo quest'anno con la Feral Pissalò anche il mio acquisto mi sembra che ci faccia valere i centimetri i centimetri ci sono in parte ovviamente diciamo ieri non sono stati non sono stati sfruttati ecco quello è sicuro però un giocatore per esempio come Zamparo ieri è mancato secondo me nella partita Gerardi non era in campo è un altro che comunque fa il suo Ferrani mancava Scappi potrà fare un gol in una stagione insomma Scappi già se non facesse prendere gol sarebbe positivo perché sono già diverse partite che purtroppo non è un accanimento verso Scappi ci mancherebbe però insomma come hai detto te anche prima ci sono stati diversi episodi che l'hanno visto negativo protagonista ieri purtroppo sì perché dispiace però insomma poi dobbiamo anche analizzare insomma quello che vediamo l'azione che vediamo sul primo gol è stato lampante ma se vogliamo anche sugli altri due insomma il contrasto non è stato proprio particolarmente efficace insomma andiamo da uno sponsor che conosce bene il nostro Scott Arlotti perché per due anni Scott ti ha premiato come miglior under del Rimini e Ottica Ferri anche quest'anno ovviamente c'è la collaborazione per il miglior giovane Bianco Rosso a due passi da Rimini a Ospedaletto di Coriano puoi trovare l'Ottica Ferri che con cortesia e professionalità cercherà di soddisfare tutte le tue esigenze L'Ottica Ferri è da sempre vicina alla squadra Bianco Rossa ti aspettiamo e forza Rimini Allora qualche messaggio da casa ne stanno arrivando tanti Allora buonasera io mi chiedo perché continuano a forgiocare Scappi che è palese che è l'anello debole della difesa C'è però c'è anche una cosa da dire che non ci sono ricambi in questo momento perché prendiamo chi è il difensore centrale in panchina del Rimini in questo momento Ogliana è infortunato Nava Colella non lo vede e non solo Colella non lo vedono come difensore centrale e quindi se mi dicono chi può giocare al posto di Scappi in questo momento se due sono fuori e la squadra purtroppo è a Monte che è stata costruita male C'era C'era ma C'era ed è stato ceduto anche perché ha voluto andare via anche va anche detto insomma che quando uno fa di tutto per andare via fa anche fatica poi a trattare Però quello è uno secondo me ne manca un altro ancora Buonasera possiamo organizzare una colletta per comprare un GPS da regalare a Scappi lo impostiamo su chi deve marcare ed evitiamo altri gol da parrocchia Ragazzi prossima partita con la Triestina in forte crisi ma noi siamo dei maestri a far contenti gli altri ci scrive Lorenzo E questo purtroppo non è è un dato statistico abbastanza quasi una certezza quasi una sentenza squadra in crisi che affronti il Rimini squadra non più in crisi e questo in effetti è vero purtroppo lo dobbiamo constatare Mi dispiace molto per gli abbonati del Rimini che hanno dato fiducia a questa squadra andiamo in alcuni stadi che 1300 spettatori li fanno in tutta la stagione Marco Se leggiamo il giornale alla rovescio siamo primi in che vergogna mi chiedo se giocatori e società si dovrebbero vergognare da tifoso L'anno scorso siamo finiti sul fondo della classifica a fine marzo e la sensazione fu terribile quest'anno abbiamo toccato il fondo neanche a fine girone d'andata voglio vedere il bicchiere mezzo pieno c'è molto più tempo per risalire e bisogna iniziare a fare i tre punti forza ragazzi domenica regalateci una gioia E beh chiaramente se ci si abbatte già adesso è finita insomma almeno bisogna giocarsela Cesare no? Sì è vero però la situazione è molto complicata secondo me è molto complicata più complicata dell'anno scorso perché la squadra a me pare ancora più fragile e il campionato mi pare molto complicato c'è un molto competitivo c'è un un aiuto che è quello che è vero che le squadre intorno a noi non stanno correndo tanto ma è perché 5-6 squadre sono abbastanza inferiori rispetto a tutte le altre e giocano un campionato tutto loro è vero che con queste squadre abbiamo già abbondantemente fatto pessime prestazioni e molti di questi scontri di reti li avremo in trasferta è vero che in questo momento sembra che il primo traguardo sia evitare l'ultimo posto ambira qualcosa di più in questo momento mi sembra un po' complicato bisogna che accada qualcosa di veramente particolare a gennaio dove non è semplice ribaltare una squadra e ci vuole anche molta fortuna io terrei d'occhio un altro dato purtroppo oggi mi ero ripromesso di controllare ma credo di non sbagliare il regolamento prevede che i play out non si disputino se fra la penultima e la quinta ultima ci sono 8 o più punti è un'altra questione su cui fare un po' di attenzione perché tu puoi fare la guerra contro il fan o chi per altri di non evitare l'ultimo posto però poi per ultimo e credo che in questo momento ci siano 5 o 6 punti tra la quinta ultima e la penultima adesso sono 3 3 3 tra diciamo tra la prima che fai i play out e l'ultima quinta ultima e penultima si bisogna stare teni 16 e 13 perché si rischia anche da questo punto di vista bisogna tenere d'occhio questa classifica è chiaro che il mercato di gennaio è un mercato che in questo momento Rimini sta mettendosi ad affrontare nella maniera peggiore perché io sono convinto che non ci sarà una grande ressa di giocatori che vogliono andare a giocare a casa con chi è ultimo in classifica da una parte e dall'altra ci saranno anche dei giocatori che pensano di meritare qualcosa di più dell'ultimo in classifica e se ne vogliono andare quindi non è una condizione facile questa per fare il mercato dobbiamo fare di conto sul fatto che Rimini abbia un appeal di suo diciamo così che possa generare interesse giocatori che altrove non giocano sono fuori rosa magari è importante per loro giocare magari vengono però stiamo parlando di giocatori che altrove non giocano sono fuori rosa quindi in questo momento non so Pastore su cosa sta lavorando si sente dire tante cose che però vanno concretizzate però insomma da ultimi ci sono tanti tanti altri piccoli piccoli insomma non tanto piccoli piccole questioni da valutare però insomma io adesso è chiaro la situazione non è facile perché chiaramente adesso Rimini è ultimo però insomma il Fano è a 13 Rimini a 12 quindi un punto la Vispesero è a 18 sono 6 punti sono due partite piene cioè secondo me è chiaro la situazione è allarmante perché è una crisi anche di risultati però secondo me c'è tempo e spazio anche per poter diciamo ricucire il gap tenuto conto che io ho visto parecchie squadre che secondo me sono più o meno un po' dopo ditemi la vostra però Ravenna ha rubato la partita ha rubato sportivamente secondo me fino a quota 18 fino a quota 18 secondo me sono tutte squadre che sono ampiamente alla portata del Rimini non vedo nessuna squadra però le hai incontrata in casa e le hai perso tutto sì però ciò non toglie che magari tu possa andare a vincere a casa loro a ritorno se non sono delle grandissime squadre devi fare un exploit che sono quasi due anni che non fai certo il trasferto in Rimini non ha un buon rendimento ma due vittorie esterne o tre cioè è chiaro che bisogna guardarla tutto tondo e abbiamo prima solamente accennato a una cosa che invece secondo me potrebbe avere un'importanza capitale il fatto che solitamente quando si cambia un allenatore non la famosa cura colella in questo caso ancora non si è visto niente no infatti io volevo chiedere a Scott la cura colella di risultato sì 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 di risultato allora qualcuno che è andato a vedere gli allenamenti ho sentito anche che dice che i ragazzi sono un po' un po' molto più cupi è chiaro che prima non eravamo ultimi ma comunque le cose non andavano bene perché è stato esonerato Cioffi dopo una sconfitta indecorosa interna con l'Arzignano però infatti volevo chiedere a Scott se è vero che la squadra soffre un po' la personalità del nuovo allenatore ma che soffre no comunque vuole che siamo tutti concentrati perché comunque lui ha riscontrato anche come è palese che la nostra concentrazione a un certo punto ha questo blackout totale quindi viene a meno e vuole tutti sul pezzo però è un allenatore che pretende quindi la situazione porta sempre a vedere tutto un pochino più grigio quindi anche durante la settimana fai più fatica a divertirti tra virgolette diciamo forse però sono più le cinque sconfitte di fila ma sì un po' tutto un po' tutto dai ambiente sconfitte in questo momento siamo in una situazione che è abbastanza triste perché viverla anche da dentro viverla tutti i giorni è è veramente difficile però se in questo momento non siamo uniti almeno noi in spogliatoio diventa veramente faticoso quindi giustamente cerchiamo di tenere la concentrazione più alta possibile anche all'allenamento senza mai sforare perché in questo momento bisogna bisogna aggrapparsi a qualsiasi cosa e per far sì che di portare sempre qualche punticino a casa perché alla fine parlandoci chiaro se non porti a casa dei punti puoi stare a parlare anche bene o male di tutto però fai fatica a uscire da quelle zone lì e noi già da domenica abbiamo bisogno di una vittoria che che almeno ti porta ad affrontare la partita con l'Imole che è fondamentale perché è fondamentale con uno spirito diverso certo ci sarà prima la Tristina e poi l'Imole sarà insomma uno scontro importante dovrete iniziare a fare qualcosa anche in trasferto assolutamente perché rendimento chiaramente ma volevo chiedere a Scott se hai notizie degli infortunati cioè Van Rasbe che è stato qui due settimane fa pareva ormai pronto Van Rasbe che era un panchiccesso è andato domenica no no ha fatto quasi tutta la settimana regolare quindi domenica è completo disposizione invece Candide e Oliana ancora in gruppo non ci sono allenati quindi non so bene quando sia loro rientro il 18 dovrebbero togliere il ferro a protezione appunto del dito e quindi dopo ricominciare insomma col gruppo anche se poi non ci sono fermati probabilmente sì probabilmente a questo punto sì però insomma rientro anche di Van Rasbe che potrebbe essere un rientro importante andiamo a vedere anche i risultati per vedere anche come si è mossa la classifica perché si diceva insomma le altre non corrono però qualcuno si muove perché per esempio il Fano si è mosso anche bene perché ha rifilato quattro gol a domicilio al Cesena ma quello è un risultato pazzesco nel senso che è vero che il Cesena è andato sotto subito rigore espulsione cioè rigore gol ed espulsione però insomma prendere quattro gol dal Fano bisogna impegnarsi un bel po' molto piacere che Ravenna abbia perso perché ho eletto come la squadra più antipatica del Girona l'hai eletto e quindi faccio fede che sia una delle avversarie da agguantare in virtù dei play-out è chiaro che fa comodo che il peso l'abbia perso in casa il Gubbio l'abbia perso la San Benedetto insomma quindi stanno giocando ancora si si sta perdendo 2-0 sta perdendo è un campionato in cui quelle 5-6 squadre si soffano la casa a parte diciamo il Fano nel complesso non è andata male chiaramente parte il Fano e Piacenza chiaramente però le altre comunque non hanno mosso più di tanto c'era uno scontri tra Fermano e Erzignano però lì forse è meglio che sia finita in pareggio così rimangono tutte e due Piccioni al 93 ha portato ogni tanto anche Piccioni qualche gollo fa allora quindi diciamo fondamentalmente possiamo dire quasi una domenica come da pronostico a parte appunto il Fano che vince a Cesena è un po' inchiodato il Verona speriamo che torni in famiglia torni a casa dalle parti basse anche se la Vecco quest'anno è una squadra ben più forte della scuola più attrezzata più attrezzata e adesso appunto ci sarà la trestina Scott è una partita molto complicata perché anche loro vengono da diversi risultati negativi negativi perché hanno perso in casa anche ieri con il Modena quindi sono partite che comunque devi preparare il meglio possibile perché come dicevamo all'inizio della puntata ogni minimo errore noi in questo momento lo paghiamo quindi sarà una partita che sicuramente si deciderà su un errore delle due squadre perché anche loro sicuramente non verranno nel migliore dei modi in casa nostra e sono fiducioso perché l'anno scorso in casa abbiamo vinto anche là avevamo fatto una buona partita a me non ricordo il primo tempo poi abbiamo perso 2-0 però sono fiducioso perché se se non entri con l'atteggiamento giusto in una partita così come domenica puoi benissimo anche non presentarti perché sono punti da fare loro sono assolutamente un'ottima squadra per carità però sono in un periodo difficile quindi noi dobbiamo essere assolutamente bravi a portare la partita dalla nostra parte tra l'altro hanno buttato via tantissime occasioni anche la Triestina contro il Modena probabilmente non meritavano quel risultato quindi sicuramente verranno al neri inferociti quindi è una partita che personalmente mi preoccupa molto però più arrabbiato di una squadra che ne ha perso 5 di fila non dovrebbe esserci sono sotto questo aspetto però le qualità sono differenti quello è il problema la cosa meno tranquillizzante è che un'altra cosa che magari potremmo chiedere a Scott come la vive è che un Rimini che perda così tante partite in casa era un po' che non ce lo ricordavamo non è vero come diceva quell'ascoltatore che era tantissimo che non si vedeva il Rimini ultimo perché anche l'anno scorso siamo stati ultimi in classifica quindi è una cosa piuttosto fresca però onestamente è sempre stato un Rimini che sulle partite in casa ha costruito le sue fortune tra virgolette quest'anno invece cosa è cambiato in casa? quest'anno è anche un pochino ci facciamo prendere un po' troppo dall'ambiente anche esterno perché giustamente comunque i tifosi pretendono che almeno in casa la squadra faccia delle partite degne del nome Rimini perché giustamente anche come scriveva un tifoso prima facciamo sempre tanti spettatori che giustamente pretendono in casa l'anno scorso abbiamo fatto quasi tre quarti dei punti se non più dei tre quarti dei punti e comunque chi veniva a giocare da noi non affrontava mai una partita semplice quest'anno quest'anno abbiamo perso anche gli scontri diretti comunque con chi è più o meno i nostri stessi punti li abbiamo persi anche male alcuni quindi c'è stato un calo di rendimento anche in casa che è una cosa molto preoccupante speriamo di portare tre punti a casa da domenica perché almeno di alzare le vittorie in casa e fare anche qualche punto in più fuori perché sono due anni che fuori facciamo tanta fatica e sì anche perché a questo punto Rimi non si può più permettere di non andare a fare punti in trasferta e per punti intendo anche qualche vittoria allora intanto possiamo rientrare con le immagini in studio perché dobbiamo andare da un altro amico della nostra trasmissione Ristorante Adriatico L'Adriatico è il più antico ristorante e pizzeria di Viserbella cura della cucina scelta qualitativa degli ingredienti esperienza e cordialità sono i nostri punti di forza ti aspettiamo per la colazione il pranzo l'aperitivo e la cena da noi troverai pesce freschissimo e di eccellente qualità e carni di primissima scelta nonché pizze giganti e ricche di ingredienti di stagione cosa aspetti vieni a trovarci e gusta i sapori delle specialità mediterranee il ristorante pizzeria Adriatico e in Viale Porto Palos 64 a Viserbella di Rimini prenotazioni al 339 1670 487 Cesare a livello societario diciamo in questo momento tutto tace ma forse un bene visto che ci sono già le problematiche della squadra del campo io credo che in questo momento i problemi del Rimini la società non sia un capitolo che incide nel senso che credo che la squadra abbia quello che serve per fare il suo mestiere e la società adesso deve cercare di vedere veramente dal punto di vista tecnico cos'è possibile fare per riequilibrare un po' per riequilibrare un po' i danni fatti da una gestione del mercato e della costruzione della squadra che io a memoria non ricordo così sbilenca perché proprio è figlia di un'approssimazione di una non conoscenza è vero che la squadra è stata fatta in più come dire a rate quasi però ognuno ha voluto metterci del suo e credo che quel mese strategico nel quale un po' di scelte quasi tutte le scelte tecniche andavano fatte che la parentesi Nicastro Penta sia quanto di più deleterio ricordo negli ultimi anni veramente ha prodotto dei danni inarrabili è chiaro che dall'altra parte c'è stata una società che ha concesso che questo avvenisse è una gravissima responsabilità però io credo che quello che è stato combinato quest'anno nella costruzione della squadra a memoria d'uomo è difficile da ricordarmelo a rigno perché comunque anche in passato nelle difficoltà come dire c'era un'idea di composizione di equilibrio della squadra quest'anno la squadra è stata fatta senza per me senza nessuna come dire non c'è un'idea non c'è niente non c'è proprio è una cozzaglia di occasioni che se non hai soldi va bene che possono essere posto che Grassi ha detto che il nostro budget è nella media della serie C ancora peggio ancora peggio io mi chiedo forse spesi male allora se i soldi diciamo così bastava tenere guarda col senno di poi le scelte della gestione subito precedente a quella penta non è che fossero poi così sbagliate gemello deramo un biennale ad alimi cioè non ci dimentichiamo che è quello invece sono state rinnegate e dopo insomma si è arrivati la sensazione è quella di un po' un vestito d'aralecchino che ognuno ci ha messo un pezzo qualcuno poi ha levato un colore per mettere un altro alla fine è venuto fuori diciamo nel complesso un pastrocchio perché è così inevitabile Cesare abbiamo giusto il tempo del pensierino della sera questa settimana vedendo Civitanova vincere il mondiale per club nella volley maschile e Conigliano vincere il campionato della coppa del mondo di volley per club femminile pensavo credo sia successo ieri pensavo di come sia bello vivere in quelle città nelle quali c'è una squadra che compete a livelli alti perlomeno nazionali non parliamo a livelli internazionali credo che io ogni tanto ciclicamente ci torno sopra ma credo che questa sia una povertà di Rimi dal punto di vista della cultura sportiva enorme si sta protraendo da troppi anni e mancare in una qualsiasi disciplina di una squadra di riferimento che generi appartenenza passione vera cultura sportiva che cresca dei dirigenti sportivi che cresca delle persone che capiscono di quello sport perché hanno una cultura di quello sport è un impoverimento terribile io vedendo Conigliano e Civitanova ma poi potremmo allungarci a Trento a Modena in altri sport che fanno cose meravigliose dico che questa città non si rende conto di quanto sia povera se non si rende conto di queste cose qui non capisce quanto è povera grazie Cesare anche per questa riflessione grazie a Scott Arlotti grazie a Luca e Baio anche appuntamento ovviamente con il calcio a domenica con 90 ore un minuto in diretta dalle 14 con il nostro Giuseppe Colonna su Radio Icaro anche sul 614 del Digitale Terrestre e noi tra poco iniziamo la serata basket e almeno insomma devo dire abbiamo qualcosa di cui festeggiare per cui festeggiare che è la vittoria di RBR ma poi ovviamente il quadro di tutti e anche i risultati delle altre squadre con tanti ospiti e oggi anche tanti contributi perché c'è stata anche una conferenza stampa particolarmente interessante degli Angels Sant'Arcangelo quindi sentiremo anche questo e quindi restate con noi grazie a tutti